Ciao a tutti, sono Giovanni Cacioppo, direttore artistico del Teatrino degli Illusi, luogo dove ci troviamo in questo momento. È appena finita la nostra conferenza stampa, volevo illustrarvi il programma della stagione 2012-2013. Cominciamo dal lunedì dove ci sarà una scuola di tango che farà dei corsi di tango a partire dalle 19.30, dopo la serata si svolge con una milonga fino all'1.30. È molto bello, si respira un'atmosfera da tempi passati, il locale poi si presta ad ospitare un'atmosfera di questo tipo. Il martedì è un giorno dove o saremo chiusi, ospiteremo degli eventi sperimentali, dei concerti, delle esibizioni che ci vengono proposte, insomma una tantum. Il mercoledì invece lo dividiamo tra il Burlesque, la scuola di Burlesque, curata da Claudia Rota che verrà ospitata con cadenza mensile e invece con cadenza quindicinale ospiteremo il laboratorio di Zelic, curato da Gaetano Lanza, dove verranno selezionati i giovani comici che vogliono intraprendere questa carriera per approdare al grosso palco televisivo quale Zelic. Il giovedì invece abbiamo il Circle Pit, il Circle Pit curato da Iommi, è un gruppo, insomma, Iommi è il direttore artistico del Link che conosciamo tutti e che ci cureranno un aperitivo con musica con DJ di elettronica che andrà avanti dalle 7 del pomeriggio fino a circa lunedì notte. Il venerdì abbiamo dei concerti allegri, insomma la serata è un po' dedicata alla spensieratezza perché dopo una settimana di lavoro il venerdì uno si vuole riposare, si vuole rilassare un po', quindi faremo dei concerti di musica leggera, simpatica, insomma scherzosa, dopo un DJ per poter ballare qualche oretta, senza andare troppo in là negli orari che non possiamo permetterci di fare troppo rumore. Il sabato invece è la serata che più mi riguarda, è quella dove faremo cabaret con cena, ogni sabato ci sarà un comico di livello nazionale, grosso, poi quest'anno abbiamo una novità, abbiamo deciso di incorporare la cena con il cabaret perché molta gente aveva difficoltà a mangiare prima o dopo, quindi abbiamo deciso di fare tutto un insieme. Il prezzo del biglietto sarà 25 euro con cena a bufia compresa, escluso le bevande. La domenica invece abbiamo delle iniziative poveridiane, sono dei mercatini che vengono a trovarci, che allestiamo qua come una piccola piazza esterna del locale, dove venderanno degli artigiani, produttori locali e non, dell'oggettistica che loro stessi producono. Mi sembra di aver detto tutto, vi aspetto, abbiamo tante salate, tante iniziative, informatevi sul nostro sito internet www.attrinodaglielusi.it oppure venite a trovarci e ho ritirato un programma cartaceo. Grazie a tutti, ciao, arrivederci.